Bene ritrovati per l'edizione di oggi, mercoledì 25 ottobre, delle telegiornali di Vercelli Web TV. Un'auto è andata a fuoco stamane per un guasto nel parcheggio del Pisu a Vercelli. La prontezza del proprietario nel momento in cui in mezzo è stato invaso dal fumo è stata di allontanarlo dalle altre auto parcheggiate, scongiurando così il propagarsi delle fiamme. La vettura, una Mercedes di classe A, è andata completamente distrutta senza fortunatamente danni alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vercelli che, domato l'incendio, dovranno adesso verificare le cause dello stesso. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia Municipale Cittadina. Il vento dei giorni scorsi ha contribuito ad abbassare il livello delle polveri sottili a Vercelli, ma in campagna continuano gli abbrucciamenti delle stoppie. Abbiamo incontrato la dottoressa Livraga dell'ARPA Piemonte che ha contribuito a fare un po' di chiarezza sull'argomento. La qualità dell'aria da Vercelli in questi giorni è migliorata nettamente perché c'è stato un meteo favorevole che ha disperso negli ultimi giorni gli inquinanti in maniera abbastanza importante. Eccomi, perdone, ma si punta il dito sui roghi in campagna, sulle stoppie che bruciano. Quanto incide questo? Quanto incide esattamente non è possibile tuttora definirlo perché non abbiamo ancora degli studi così precisi per poter dire quanto interferiscano. Anche perché i roghi in campagna sono generalizzati, quindi non è possibile decidere di fare delle campagne di valutazione di queste cose in un posto piuttosto che in un altro, perché le segnalazioni si hanno da vari posti. E' una pratica che viene fatta in queste zone, c'è anche una questione naturale perché comunque ci sono anche tanti incendi, come si sente anche da altre parti, ci sono tanti incendi che anche loro contribuiscono. Quindi dire esattamente quanto è incidente la faccenda dell'abbruciamento stoppie non è possibile, però senz'altro è una buona componente. Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento, l'intervista completa è a disposizione sul nostro sito www.vercelliweb.tv Il Consiglio Provinciale di Alessandria si terrà prossimamente a Crea. Nei giorni scorsi Massimo Iaretti, consigliere comunale di Villa Miroglio e dell'Unione dei Comuni della Valcerrina, dove è delegato per il turismo, aveva scritto al neopresidente della provincia Gianfranco Baldi avanzando una richiesta in tal senso per valorizzare da un lato il Sacro Monte, proclamato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e dall'altro per approfondire le tematiche non solo turistiche legate ai comuni della Valcerrina, area che è comunque di confine per il territorio provinciale. La risposta da Palazzo Ghilini non si è fatta attendere. Con una lettera è stata accolta la proposta, valutando oltresì l'occasione di conoscere e dibattere i problemi legati alla Valcerrina e alla promozione del suo territorio. Ringrazio Presidente e Vicepresidente della provincia, dice Massimo Iaretti, per la celerità della risposta. L'auspicio è che dal confronto delle varie idee possono esserci presto azioni positive per affrontare le varie tematiche della Valcerrina e per uno sviluppo della sua promozione turistica in linea con le sue potenzialità e specificità. Nelle mese di ottobre lo spazio espositivo Scala d'Artista presso il Palazzo di Città di Gattinara ospita le opere degli allevi della Scuola di Pittura Unitre di Omenia, che ha ottenuto il premio speciale nell'ambito del secondo concorso d'arte contemporanea Città di Gattinara. È possibile visitare la mostra durante l'apertura al pubblico degli uffici comunali nei seguenti orari, da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. E adesso un attimo di pausa, ci rivediamo fra poco con lo sport. Sconfitta per 1-0 ieri sera per la Pro Vercelli di Mr. Grassadogna d'Avellino, incontro valido per l'undicesima giornata del campionato di calcio di Serie B. Ripeto, il gol è scaturito da questo cross, buttato in aria su uno stop, palla messa in mezzo, è stato bravo l'attaccante, non c'è stata una superiorità o clamorose occasioni dell'Avellino, assolutamente no. Penso che sia il mio portiere che quello dell'Avellino non sono stati assolutamente impensieriti fino allo 0-0. Certamente l'Avellino ha avuto maggiore possesso palla, ma molto sterile, insomma la mia squadra ha lavorato bene, ha chiuso gli spazi, è stata attenta. Dovevamo certamente, e su questo ci lavoreremo, giocare di più e cercare di offendere di più perché gli spazi c'erano. Lunedì sera si è giocata la quinta giornata del campionato di calcio a 5 di Serie C2. Il città di Vercelli non va oltre il pareggio per 2-2 in casa contro il pro Casalborgone, nonostante una netta supremazia. Questo risultato fa abbandonare Vercellesi la prima posizione in classifica, ora pannaggio solo delle Poredia. L'altra squadra di Vercelli, la pro Vercelli, torna dalla trasferta contro il Dorino con una sconfitta per 6-2 che lascia i ragazzi di Mister Granziero fermi ai 4 punti. La capolista Eporedia guida la classifica con 13 punti. Passiamo al calcio giovanile, in particolare al Casale Calcio. Per quanto riguarda i Pulcini 2007, hanno giocato Adesana contro i Diavoletti Vercelli, rimediando una secca sconfitta, perdendo tutti e quattro i tempi. Nella prima partita casalinga di campionato, gli allievi Fascia B superano con un secco 4-1 la Ronco Valdengo e sabato prossimo affronteranno la trasferta di Acqui. Gli esordienti 2005, con un poker 4-0, hanno la meglio sulle scuole cristiane di Vercelli, sul terreno amico del Bianchi. Con lo sport è tutto, appuntamento domani, come di consuito, alle ore 19.